Buonasera a tutti, benvenuti in questa che è una splendida sede di Contrada, quella dei Rossi, l'Aquila Nera su Fondo Rosso, la Contrada San Giovanni. Benvenuti per il terzo appuntamento di incontri in Contrada. Parliamo di mistero, abbiamo parlato di UFO, abbiamo parlato dei cerchi di grano e adesso parliamo delle civiltà misteriose e anche questa volta faremo un viaggio interessante e intrigante con Pier Giorgio Caria. Io non mi dilungo con i discorsi, grazie per la vostra presenza e ringraziamo la Contrada per averci ospitato. Prego Pier Giorgio. Bene, cresciamo, ammazza, tra poco ci serve lo stadio. Sono molto felice di vedere così tante persone che si stanno interessando di questi argomenti. Come diceva Manfredo abbiamo parlato di civiltà extraterrestre, a me chiamarli UFO non piace molto perché l'oggetto volante non identificato oggi è molto identificato. So bene che a livello di società civile non percepiamo come verità scientifica oggettiva questo discorso ma abbiamo affrontato il perché il per come, almeno per chi c'era oggi, ancora le persone pensano che non esistano le prove scientifiche di questa favolosa visita di questi esseri. Abbiamo visto che in realtà è una verità accuratamente occultata dai poteri del mondo e loro, queste civiltà, non violano il nostro libero arbitrio imponendo la loro presenza e il loro sistema perché le loro leggi e i loro comportamenti sono agganciati alla perfetta conoscenza scientifica della reale natura fisica e spirituale dell'essere umano. Quindi conoscendo queste leggi che poi sono le leggi che ci fanno nascere, ci fanno crescere, ci fanno morire, ci fanno rinascere e così via e quindi per loro la libertà dell'essere umano è una cosa sacra, anzi dicono addirittura questi esseri che è sacra in tutto l'universo, cioè le civiltà evolute non violano il libero arbitrio imponendo con la forza come invece accade e con l'inganno come accade invece nel nostro mondo le proprie verità o presunte tali. Questo discorso apre ovviamente una riflessione che vediamo anche in ambiti più pragmatici come la politica che il potere spesso e volentieri mente e inganna il popolo perché persegue degli interessi che purtroppo la stragrande maggioranza delle volte non collimano con i nostri, anzi esattamente sono l'opposto dei nostri interessi. Questo avviene in tantissimi settori, per non dire tutti, tranne casi rarissimi e chi osa a livello di vertice sfidare questa metodologia viene spesso eliminato, è accaduto con John Kennedy, è accaduto con Gandhi, è accaduto con Martin Luther King, è accaduto con Giordano Bruno, quindi chi osa sfidare certe regole la paga cara. Ora nell'archeologia purtroppo è lo stesso discorso, ci viene insegnato a scuola un processo storico evolutivo della società umana lineare, quindi siamo partiti dalle scimmie, dalle antiche scimmie di cui ne abbiamo una variegata scelta oggi, ci sono l'uomo di Cromagnon, Lussi, eccetera, l'uomo di Similaun e vari, e secondo la lettura ufficiale della nostra storia siamo arrivati ad oggi attraverso un percorso progressivo nel tempo che ci ha portato a essere la società come noi la conosciamo oggi, una società soprattutto a carattere scientifico, tecnologico, razionale, dove la religione ha smesso di avere quel ruolo educativo, morale e anche iniziatico ed è diventata una mera tradizione ritualistica di fatto svuotata dei reali contenuti di conoscenza, cioè oggi abbiamo noi una religione fideistica, una religione diciamo così esteriore ma che di fatto disconosce il vero insegnamento sulla reale e profonda natura della creazione, abbiamo immagini medievali del bene e del male, il diavolo con le corna e il forcone o l'angioletto che suona l'arpa sulle nuvole, ci sono stereotipi medievali che sono talmente ormai privi di significato che al di là di un bel quadro o di di una statuina non hanno nessun altro ruolo reale, dico questo sempre a grandi numeri. Bene, adesso vedremo, ho tratto da un argomento vastissimo, non avete idea di quanto materiale esista in tal senso, delle cose che sono delle caratteristiche strutturali, architettoniche, artistiche e qualcos'altro ma poco, soprattutto questo, per cercare di tracciare una linea che ci faccia vedere che in realtà anche qui non è come ce la raccontano, cioè che nel nostro mondo è esistita un'altra civiltà globale di cui abbiamo perso completamente la memoria ma che esistono vestigia ai quattro angoli del pianeta che ci dimostrano che questa civiltà aveva una metodologia soprattutto costruttiva che ritroviamo ai quattro angoli del pianeta. Oggi è normale vedere in occidente, in oriente, al nord e al sud grattacieli, cioè quindi la nostra forma diciamo così globale di costruire soprattutto oggi è il grattacielo che troviamo in oriente, in occidente, al nord e al sud. Ecco, nell'antichità modelli strutturali e architettonici erano comuni ai quattro angoli del grobo, quindi facciamo questo viaggio attraverso le immagini dove vediamo soprattutto che una principale caratteristica costruttiva di questa antica civiltà globale è il megalitismo con la costruzione di mura ciclopiche con, nonostante l'enorme peso di queste pietre, potremmo osservare delle super sofisticate tecniche di taglio e incastro di queste pietre, il che ci fa dedurre un'altra cosa, che questa civiltà non solo era globale ma aveva raggiunto un alto livello di conoscenze scientifiche e tecnologiche che, come noi, esprimiamo in tanti aspetti tra i quali l'architettura, cioè la costruzione degli edifici. Allora iniziamo questo percorso dal Perù, ci siamo stati con la troupe del nostro studio che è la Sidonia Production nel 2005, siamo stati quasi un mese in Perù, abbiamo girato due documentari che in parte sono andati in onda sulla RAI, anche questi, e quindi parto dal Perù perché è uno dei luoghi che ho avuto modo di toccare con mano e di vedere coi miei occhi. Allora a Cusco, allora questo tipo di architettura è abbastanza comune in Perù, però gli aspetti principali, più importanti, li troviamo nell'antica capitale del Perù, che è Cusco, capitale che poi, una volta che ci fu l'invasione spagnola, fu sostituita con una città costruita dalle fondamenta, dai bianchi, quindi Lima, che è la capitale moderna del Perù, non ha nessuna attinenza con gli antichi popoli che hanno abitato questa parte del mondo. Allora c'è una via a Cusco dove c'è questo muro gigantesco, vedete, con pietre ciclopiche, ma la cosa che più salta agli occhi è l'incredibile perfezione del taglio e dell'incastro poligonale di queste pietre. Questo è un uomo, quindi vediamo bene, sono pietre che pesano decine e decine di tonnellate e sono incastrate l'una con l'altra in maniera talmente perfetta che se provate a inserirci la lama di un coltello non ci entra, non c'è cemento, non c'è malta, non c'è nulla, sono solo ed unicamente pietre appoggiate. E dal punto di vista della logica costruttiva non si comprende il perché creare una difficoltà di questo genere. Vedete le angolature, gli incastri, ad esempio questa pietra è molto famosa perché ha dodici angoli di incastro. La vediamo più da vicino. Ecco qui c'è un ragazzino affiancato, vedete queste sono altre parti di questo incredibile muro, vedete se li contiamo guardate l'incredibile, pazzesca, voi immaginate mettere in posa queste pietre cosa possa significare. Questa è una pietra che pesa decine e decine di tonnellate anche perché dopo dentro è molto molto profonda. Ma questa non è l'unica meraviglia di Cusco considerando anche che gli spagnoli hanno buttato giù un sacco di roba e poi nelle varie epoche successive la stessa popolazione locale perdendo il collegamento con l'antica civiltà che costruì queste cose hanno perso la tecnica, quindi non si sa più come facessero a costruirle spostarle perché non è un blocchetto di cemento con un sacco, non c'erano le gru allora, quindi non si sa bene come fosse possibile spostare queste pietre dalle cave, tagliarle e poi lavorare e progettare una serie di tagli così perfetti ed incastrarli l'uno con l'altro. Quindi è successo poi nelle epoche successive dopo l'invasione spagnola che per costruire i nuovi edifici molte di queste costruzioni sono state letteralmente smontate per farne altre, quello che è successo ad esempio a Roma col Colosseo che ne hanno tirato giù un bel pezzo che i romani hanno usato per costruirsi poi le ville, le case e così via. Quindi in Perù è successa esattamente la stessa cosa e questo diventa ancora più evidente nella zona alta di Cusco, che già è parecchio alta, si trova Cusco a 3.800 metri di altezza, c'è un promontorio ancora più elevato che si chiama Saxiaiwaman dove esiste qualcosa di pazzesco che non ha nessuna logica, allora sono rimaste solo le mura perimetrali della parte più bassa, poi c'è un promontorio ancora più elevato, quindi già questa spianata è parecchio sopra Cusco, cioè voi da questa spianata dominate dall'alto la città, quindi siamo già oltre i 4.000 metri, ma queste immense mura che viste così non dicono nulla, sono un vero non senso costruttivo, guardate un po' le persone e guardate anche qui la stessa tecnica di taglio poligonale, di incastro assurdo, poi un puzzle irregolare che crea una difficoltà di lavoro, di progetto, di messa in opera di queste pietre anche a Saxiaiwaman, assolutamente senza malta, senza cemento, senza nulla, sono pietre messe lì e solo incastrate l'una con l'altra. Tra l'altro questo tipo di situazione la ritroviamo anche a Machu Picchu, dove c'è una zona di Machu Picchu dove c'è stato un terremoto, quindi abbastanza consistente, lì le pietre si sono aperte, abbiamo visto una cosa ancora più assurda, non solo le pietre sono tagliate in questo modo, ma addirittura le due facce interne sono elicoidali, allora incastrare e lavorare delle facce elicoidali che combaciano perfettamente è oggi stesso un'enorme difficoltà, quindi non si riesce a capire come cavolo facessero quei popoli lì a realizzare cose di questo tipo. Vediamo più in dettaglio le pietre, ecco guardate un po' che tipo di megaliti si trovano a Saxiaiwaman, quindi voi vi immaginate che difficoltà possa avere lavorare una pietra di questo tipo e incastrarla e farla diventare testata ad angolo di questo immenso muro ciclopico. Anche questa pietra vista così dice poco, ma se ci mettiamo una figura umana la cosa cambia completamente aspetto, vedete? Sono le due pietre affiancate, mi sistemi sto laser, stiamo parlando di questa e di questa, vediamole con una figura umana, ecco qui ci sono dei bambini, vedete? E poi vedete che spesso e volentieri gli incastri non sono nemmeno angolari, sono addirittura curvi, quindi creando ulteriore difficoltà nella lavorazione, nella posa in opera di queste pietre. Questa è una delle più grandi, vedete come anche questa tutta sfaccettata, da sola pesa 350 tonnellate, ma le meraviglie di Sacsayhuaman non finiscono, guardate questa porta uguale, se ci mettiamo anche qui una persona ci rendiamo conto, guardate un po', è una porta per qualcuno che è alto 5 o 6 metri, quindi tutto a Sacsayhuaman, già Cusco è un po' particolare, ma andando a Sacsayhuaman ti senti un lillipuziano, cioè ti sembra di stare in un luogo che è stato costruito per giganti, non per persone come siamo noi oggi. Lo stesso è un'altra porta, sì, aspetta Stefana che è dura, lo stesso è un'altra delle varie porte che ci sono a Sacsayhuaman, vedete la ragazza è seduta qui, ma la porta è ciclopica, tutto è ciclopico a Sacsayhuaman, e vedete bene che il luogo è immenso, questa è la sommità dove c'è questo particolarissimo tempio di cui sono rimaste solo i basamenti, queste sono le mura che abbiamo visto dal basso, vedete, circondano a dente tutta la parte della fortezza, nella parte alta c'è questa enorme costruzione di cui si vedono ancora le sale, le stanze e così via, ma purtroppo, siccome qua sopra le pietre erano più piccole, la popolazione locale, in epoche anche moderne, salivano su con i camion, prima che nascesse il turismo archeologico e quindi diventasse fonte di economia, e se le sono portate via quei camion, non c'era nessun ente per i beni culturali, quindi purtroppo è stato fatto a pezzi, ma questo è accaduto anche in Italia, soprattutto in Sardegna, hanno fatto uno scempio della favolosa architettura nuragica che esisteva, le hanno caricate quei camion e buttate in mare per fare il porto di Oristano. Quindi a Cusco oggi rimane, a Saxo-Aman rimangono solo queste. Ora dal Perù facciamo un viaggio di oltre 10.000 chilometri e andiamo in Egitto e scopriamo, ed è una cosa che non ci fa mai osservare nessuno, che le pietre inca, perché quel tipo di costruzione poligonale e ciclopica viene chiamata pietra inca, struttura inca, ma in Egitto gli inca che ci stanno a fare? Questa è la piramide di Micerino, vedete le piramide anticamente non erano così, anche lì è successa la stessa cosa, cioè a parte che molti massi della copertura delle piramidi, compresa quella di Cheope e di Kefren, sono crollati a causa di terremoti, ma una volta che si è fatto breccia nella struttura di rivestimento, perché la parte interna delle piramidi sono rocce di arenaria, ad esempio la piramide di Cheope pesano circa due quintali e mezzo l'una, e comunque non è facile costruire strutture di quella portata con massi da due quintali e mezzo, è un'assurdità, non ha nessuna logica in termini costruttivi, ma nella piramide di Micerino vedete c'è una parte della struttura di rivestimento che è crollata, ma ce ne sono delle parti che vediamo qui che sono rimaste, vai Stefano tanto se ne sta andando, e vedete che le pietre rimaste della facciata delle mura di Micerino, queste sono foto che abbiamo scattato noi personalmente, sono pietre con la caratteristica lavorazione del muro inca, vi faccio notare una cosa che prima non vi ho fatto notare, è che nelle pietre inca, vedete queste protuberanze? Ecco, se torniamo sulle pietre inca ci accorgiamo che queste protuberanze si trovano anche nei muri inca, vedete? Quindi ritroviamo esattamente, magari in una forma leggermente più grezza, però qui dobbiamo considerare le diverse anche epoche, però ritroviamo nella piramide di Micerino in Egitto a migliaia di chilometri di distanza la stessa tecnica costruttiva di legare le pietre non in modo regolare ma di tagliarle creando questi puzzle assurdi che secondo la logica attuale, vedete quanto ce n'è, secondo la logica attuale, vedete queste sono pietre che sono state messe in epoca moderna e hanno la nostra logica, si fa una cosa di una forma regolare in modo che non ci sia tutto sto problema di fare tutte ste pietre l'una diversa dall'altra eccetera, però la cosa che è, diciamo, oltre al discorso prettamente megalitico di questi enormi massi che sono appunto difficili da non solo mettere in opera e tagliare ma anche portarli, c'è un dispendio assurdo di energia, una pietra così la facciamo in dieci pezzi e la portiamo con più facilità, quindi non solo tutta la difficoltà tecnico costruttiva ma anche la difficoltà del trasporto perché noi presumiamo che all'epoca non esistessero le moderne tecnologie di trasporto e posa in opera, quindi c'è qualcosa che in realtà ci dice che non è come pensiamo noi perché è evidente che la logica che usavano gli antichi costruttori è una logica che era sicuramente inserita dentro una filiera tecnologica di cui noi oggi abbiamo perso le tracce. Andiamo in Egitto in un altro luogo, il tempio di Abidos, scusate, ad Abidos nel tempio di Seti, questo è il tempio e guardate anche qui, vedete la persona qui a terra, anche qui troviamo questi massi ciclopici con questi tagli, vedete, poligonali, incastri strani, guardate che perfezione di lavorazione, quindi c'è qualcosa dell'antico passato, qui veniamo a un'altra struttura di chiara fattezza inca, vedete, c'è qualcosa dell'antico passato che non ci viene raccontato, ora io mi dico, ma se io che non sono un archeologo mi rendo conto di queste stranezze, è possibile che l'archeologia ufficiale in secoli di studio, per quanto non siano tantissimi, circa tre secoli, non si sia accorto di questo perché si presume che all'epoca gli egiziani con gli incas non si potevano incontrare perché il vecchio mondo con il nuovo mondo ancora non si era unito, ma com'è possibile che in realtà quasi agli antipodi del pianeta invece ritroviamo esattamente lo stesso modo di costruire. Andiamo a vedere un'altra cosa in Grecia, qui ho una sola foto e vedete che anche in Grecia abbiamo lo stesso tipo di logica, qui non sono massi granitici ma è sicuramente arenaria, quindi una roccia molto più friabile e quindi più facilmente attaccabile dagli agenti atmosferici, ma quello che rimane di queste mura greche ciclopiche, vedete, la stessa tecnica, cioè tagli curvi, pietre poligonali, irregolari come dimensioni, quindi Peru, Grecia, Egitto, la cosa incomincia a essere strana. Adesso facciamo un altro salto di migliaia e migliaia di chilometri e andiamo ad atterrare su una delle zone più remote del nostro pianeta, l'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua sta a 4.000 chilometri dal Cile e a 1.500 chilometri dall'isola più vicina ed è uno sputo, è molto piccola. Ebbene, sull'isola di Pasqua sicuramente l'immagine più famosa che avete è questa, che sono i moai, ma anche i moai non sono bambolotti da mettere in camera da letto o sul cuscino. Vedete bene di che cosa stiamo parlando. Però lasciamo un attimo da parte i moai, su cui ho lasciato perdere perché solo sui moai c'è da fare mezza conferenza, o tutt'una, e andiamo a vedere delle mura che si trovano anche in questo sperduto e remoto angolo del mondo. E vedete che ritroviamo anche qui esattamente lo stesso modo di mettere in opera le costruzioni. Ora, anche in questo caso, stesso discorso, non ci rendiamo bene conto delle dimensioni di questi oggetti qui, comunque avviciniamoci un attimo, li vediamo più nel dettaglio, vedete? Stesso discorso, pietre megalitiche, vedete la bombatura, quindi abbiamo un incastro, questa è concava e questa è convessa, quindi realizzare una giuntura così non è facile, questa è roccia granitica pesantissima e durissima. Tra l'altro l'isola di Pasqua di fatto è la parte finale di un grande vulcano, che è il Ranurraraku, dove c'erano le cave da cui veniva estratta la pietra con cui si costruivano sia queste mura che i moai. Bene, adesso ci mettiamo vicino a una persona e ci accorgiamo che la cosa prende un altro aspetto. Anche qui sono mura ciclopiche, vedete? Dei megaliti giganteschi con questa perfezione di intaglio, vedete? Sono talmente ben lavorate che qui siamo quasi a livello di taglio laser. Non può essere opera di scalpellini un lavoro di questo genere. Come fa lo scalpellino a girarsi la pietra, calcolare? Cioè diventa un lavoro da fuori di testa, per usare un termine un po'. Quindi non si riesce a capire, perlomeno non riusciamo a capire, ancora oggi questo mistero è rimasto insoluto perché al di là delle cose che dice l'archeologia ufficiale, che tra l'altro questi discorsi gli ignora completamente perché credo che forse oltre Voyager e qualche altro programma non abbiate mai sentito un discorso del genere, è tantomeno un viaggio che dimostra una unicità e una unificazione culturale, architettonica, che dimostra chiaramente che nell'antichità popoli lontanissimi si scambiavano lo stesso tipo di informazione e lo stesso tipo di tecnica costruttiva. Torniamo un attimo a quella testa che abbiamo visto prima e la confrontiamo con un essere umano, vedete bene che mentre di là sembra un bambolotto, perché non abbiamo riferimenti, di qua quando c'è l'essere umano la cosa prende tutt'altro aspetto e vedete che il luogo è disseminato di grandissime pietre megalitiche perfettamente lavorate, guardate la curvatura anche di questa, quindi non si riesce a capire che tipo di logica avete, qui c'è un moai andato a terra, questa è la parte curva di questo muro, vedete non si riesce a capire la logica che aveva rendere talmente complesso e difficile il modo di costruire. Ovviamente è illogico dal nostro punto di vista e secondo la logica che ci viene data dalle nostre capacità scientifiche e tecnologiche di costruzione, quindi lo ribadisco evidentemente in quelle epoche loro avevano delle tecniche di taglio, lavorazione, trasporto e posa in opera delle rocce che noi ancora non sappiamo come cavolo facevano ma è evidente che nella loro logica e nella loro conoscenza era ovvio fare così. Torniamo un attimo ai moai, me ne interesso solo per una scoperta che è abbastanza recente perché alla fine qualcuno ha pensato bene di cercare di capire al di là di questa parte della struttura che cosa ci fosse sotto. Ebbene guardate un po' che cos'è un moai? Sono immense strutture pesantissime di pietra e questa non è sicuramente una delle più grosse, abbiamo teste di moai che sono rimaste sulle falde del Ranurraraku, il vulcano dell'isola di Pasqua, che sono il doppio e il triplo di questa testa qui. Sono state abbandonate di colpo, mezze lavorate, è una situazione del genere, cioè di queste immense statue, vedete le mani qui, che sono sepolte per i due terzi, mi sta dicendo che lì è accaduto un grande disastro, che ha sepolto con metri e metri di fango queste statue che solo negli anni recenti gli archeologi gli è venuta la brillante idea, ma è se scaviamo, che dovrebbe essere la cosa più ovvia per un archeologo scavare, no? E dice, ah scaviamo. Quindi hanno scavato e hanno scoperto che i moai sono statue, cioè che quello che emergeva era solo la sommità di statue gigantesche sepolte sotto 6-7 metri di terra. E la cosa strabiliante è che siccome le statue erano la maggior parte, la parte diciamo più esposta era dalle spalle in su, ebbene le statue sono incise con dei simboli che hanno delle caratteristiche di conoscenze astronomiche assurde, ma che ritroviamo in molte antiche civiltà del passato. Questa è una fila di moai che è stata dissepolta, vedete bene. Chi poteva tagliare, trasportare e mettere in opera? Ce ne sono centinaia e centinaia sull'isola di Pasqua. Non è possibile che un'isola così piccola possa aver generato una struttura con questo tipo di complessità. quindi l'isola di Pasqua è il rimasuglio di qualcosa di molto più grosso e ci racconta di un antico passato dove le cose non stanno così come ce le racconta l'archeologia ufficiale. Facciamo un altro salto oceanico e ci spostiamo nella zona dell'arcipelago, mi sfugge il nome, comunque mi verrà, non è le Filippine, beh, lapsus, stanchezza. Comunque nel regno di Tonga, nell'isola di Tongatapu, che è un altro luogo sperduto e remoto, guardate qui, questa è l'Australia, Tongatapu sta qui. E questa isoletta qui sta a circa 3.285 chilometri dalle coste dell'Australia e si trova a sud delle Samoa e a est delle isole Fiji. Questa è una foto satellitare dell'isoletta. Ora, anche in questo sputo sperduto nell'oceano, come possono esserci strutture di questo tipo? Cioè di nuovo siamo di fronte a megaliti giganteschi, quindi il triliton di A a Monga è alto 5,20 metri, spesso 1,40 metri, largo 5,8 metri e i due pilastri pesano tra le 30 e 40 tonnellate. Guardate il taglio, questa è pietra corallina, per questo è così rosa, ma il taglio della roccia è perfetto, anche qui siamo in presenza di una curvatura e non è solo questo triliton, questo megalite gigantesco, ma l'isola di Tongatapu presenta enormi strutture, queste sono delle tombe reali, vedete? Anche qui abbiamo giganteschi massi ciclopici, perfettamente lavorati, che hanno costruito la base dei terrazzamenti su quali poi i re successivi hanno costruito le loro tombe. Ci spostiamo ancora e torniamo vicino a noi, vedete? Stiamo balzando da una parte all'altra del pianeta e vediamo con sorpresa che appunto la tecnica megalitica di costruzione è simile in posti che secondo la logica della storia moderna non dovevano assolutamente avere niente in comune. Qui siamo in Libano a Balbek, è una zona bellissima dove ci sono dei templi di origine greca che poi sono stati successivamente presi dai romani, ebbene vedete questi templi, queste sono le persone che sono stati eretti su una piattaforma assurda di giganteschi massi. Questo è il tempio di Bacco che qui vediamo nella loro interezza, ecco queste sono le persone a terra e vedete l'incredibile gigantesca piattaforma di massi alti quasi due metri sul quale poi è stato eretto successivamente il tempio di Bacco. Ma queste non sono le pietre più grandi che si trovano a Balbek, perché il recinto che racchiude l'area sacra, guardate che altri massi ci sono, che sono molto più grossi e giganteschi di quelli che formano la base del tempio di Bacco, quindi abbiamo una serie, vedete, queste sono due persone, vedete un po' che razza di capacità di taglio, trasporto, guardate questa è una persona, guardate il masso, finisce qui, inizia e finisce qui. Quindi siamo in presenza di massi che pesano tra le 750 e 1000 tonnellate. Ora, questo tipo di peso e di perfezione di lavorazione sfida la logica delle più moderne gru, adesso non so quale sia il peso e la capacità delle gru moderne, ma lavorare, trasportare, mettere in opera massi di questo genere rappresenterebbe una grandissima e terribile complicazione anche oggi. Ad esempio, quando in Egitto fu costruita la diga di Aswan, le statue della valle del Re, che sarebbe stata inondata, erano così gigantesche che le hanno dovute tagliare a pezzi, a fettine, numerare, hanno fatto dei puzzle, hanno preso le gru più moderne, penso che sia stato negli anni 60 o primi anni 70 la diga di Aswan, ma penso anni 60, gli hanno dovuti fare a pezzi queste gigantesche statue, prendere le gru, non so se ne avessero progettate apposta, prendere delle gru e trasportare con gru progettate apposta questi pezzi di statue, come facevano gli egiziani a fare lavori del genere? Non lo sappiamo, ancora l'archeologia non ce l'ha detto, non sappiamo se l'ha scoperto, però di fatto ci sono dei non sensi dal punto di vista tecnico-scientifico costruttivo di cui l'archeologia ufficiale di fatto o fa finta o li ignora del tutto, ma non si può ignorare roba di questo genere, guardate le persone che camminano su queste immense pietre che formano il recinto dei templi di Balbek, a voglia corde schiavili a tirare pietre, come fai? C'è una pietra così, se la strascini nel terreno, ti scava dopo 5 metri, anche a voler mettere mille operai, ti scava 5 metri e non la tiri più, perché tende a scendere, che ci metti sotto? Se metti i rulli di pietra come li controlli? Se ci metti legno te lo spiaccica e lo mette nel suolo, quindi non si capisce, evidentemente, lo ribadisco, nell'antichità c'era qualcosa che gli antichi sapevano fare, ma che noi non lo sappiamo più fare. Questo è uno dei triliton più grandi di Balbek, viene chiamata la pietra della gestante, è uno dei più grandi monoliti, ma non il più grande tutt'oggi conosciuto, questo monolita, visto così, al solito non dice molto, ma se ci mettiamo delle persone vicino, guardate un po' che roba è. È lungo 21 metri e mezzo, una sezione quadrata di 4 metri di lato e pesa circa 1200 tonnellate. Chi le sapeva queste cose? Alzi la mano. Belle, eh? Io quando le ho scoperte sono rimasto a bocca aperta, poi è stato bellissimo, Balbek non ci sono stato, ma ho visitato le piramidi del Cairo, il Perù, è veramente sconvolgente perché ti accorgi, guardate un po' che roba, 1200 tonnellate di pietra, vedete questa è una foto parecchio vecchia, con queste due persone, questa è una foto molto più moderna, è rimasta lì, non la tocca a nessuno. E questa è la zona della cava dove le pietre si lavoravano, ma non è l'unica, vedete un altro triliton che sta abbandonato lì, quindi anche qui c'è tutte queste cose, mi dicono che c'è il Moai abbandonato sulla parete del Rano Raraco, poi se faremo altri incontri vi farò vedere anche queste cose ed entrerò più nello specifico di altri aspetti culturali più sofisticati che uniscono tutte queste civiltà, lontanissime, stiamo parlando 10, 15, 20 mila chilometri di distanza, voglia barca remi. Quindi queste pietre abbandonate nelle cave mi dicono che è successa qualcosa all'improvviso che ha creato una rottura tra questo passato sconosciuto e la linea storica moderna che ingannandoci ci fanno credere che deriva da quando eravamo scimmie che saltellavano sugli alberi, in realtà poi erano loro scimmie, io mi ritengo figlio di Dio, quindi. Ecco, ma la cosa più sconvolgente è che noi italiani non sappiamo che anche in Italia, guardate un po', intanto visto che sono sardo parto dalla mia terra e guardate un po', esattamente lo stesso tipo di taglio e di incastro dell'isola di Pasqua, è molto lontana l'isola di Pasqua dalla Sardegna, ho provato ad andarci in bicicletta ma ho desistito. Allora questo è un tempio sacro, è un pozzo sacro, vedete la tecnica di taglio sofisticatissima di incastro delle pietre e di lavorazione in confronto ai nuraghe e molto più sofisticata, quindi anche qui da noi in Italia c'è una rottura tra un'antica tecnologia costruttiva e le cose più antiche sono molto più sofisticate delle cose più recenti. Cioè le cose più recenti sono state una storpiatura e un tentativo di imitazione di antichissime tecniche perfettissime costruttive, perché questo tipo di taglio, vedete, è quello che abbiamo visto ad Abidos in Egitto, quello che abbiamo visto in Peru, all'isola di Pasqua e così via, ma in altre zone dell'Italia, soprattutto centrale, vedete, qui siamo ad Alatri, nel Lazio, vedete le stesse pietre megalitiche e ciclopiche con la stessa tecnica di incastro a Pazzol che abbiamo visto in Peru e in tutti gli altri luoghi. Qui siamo ad Alba Fucens, vedete, sembra di stare in Peru e invece siamo in Italia. Qui siamo a Norba, guardate, sembra uno degli angoli di Sacsayhuaman, vedete? Ecco, qui già, vedete, gli edifici incominciano ad essere un po' più grezzi, ma ce ne sono altri. Qui siamo a San Felice Circeo, guardate queste pietre ciclopiche, ce ne sono tanti in Italia, guardate, qui siamo a pietra abbondante. Vedete? Le mura più moderne sono piccoline le pietre, sono le pietre che usiamo solitamente noi, invece l'antico muro che è la base della costruzione è esattamente un muro che ha quel tipo di taglio precisissimo e di incastro che abbiamo visto in tutti gli altri luoghi. Addirittura archi che sembrano archi incas, quelli visti a Sacsayhuaman, qui siamo ad Arpino, vedete il muro ciclopico anche qui, per cui, torniamo un attimo alla Sardegna, per cui questa forma costruttiva, vedete, che è comune in tutto il globo terraqueo. Qui siamo nella zona di Siddi, in Sardegna, dove ci sono le famosissime tombe dei giganti, vedete, l'ingresso è piccolo, ma una volta che si entra dentro, guardate quanto diventa alto, l'ambiente interno e vedete che anche qui abbiamo giganteschi massi che formano, sono al contrario, dovrebbero essere i più grossi alla base, invece abbiamo i più piccoli alla base, i più grossi, cioè proprio a dire rendiamoci la vita difficile, ma evidentemente non è così, sono logiche che noi non comprendiamo. Questa tomba è talmente gigantesca, io ci sono stato l'altro anno, ce ne sono tantissime, la Sardegna è un immenso parco archeologico a cielo aperto, completamente abbandonato a se stesso, di cui nessuno sa nulla, è un immenso tesoro di turismo archeologico che sarebbe meraviglioso, perché la quantità di elementi, di bellezza, di struttura, abbiamo i dolmen, abbiamo i menhir, abbiamo i pozzi sacri, abbiamo i nuraghe, cioè non ne sa niente nessuno, è completamente lasciato lì, ma c'è una ragione molto precisa perché accade questo. E questa è una delle tombe più grandi, delle tombe dei giganti, si chiama Sadome Sorcu, che vuol dire la casa dell'orco, che vista nella parte più intera, questa è l'esedra, è un semicerchio e poi qui c'è la parte lunga perché vista dall'alto le tombe dei giganti hanno questa struttura. Queste sono pietre gigantesche, guardate questa era la pietra frontale, vedete? Sembra una tau. Allora, alcuni ricercatori moderni usano queste tombe come accumulatori di energia, cioè questa parte parabolica condensa l'energia nella parte frontale ed è molto molto forte, addirittura c'è un amico archeologo che qualche giorno che non mi ricordo il nome, dirà bell'amico, che porca miseria, uomo terra di... vabbè non mi viene, sono stanco, quindi... Eh? Ha reso, ha reso, ci cura anche le persone, ha fatto delle prove, ci cura le persone, ha visto che in 15 giorni di trattamento è riuscito a togliere le radiazioni da persone di Chernobyl. Io sono un po' rabdomante, ho fatto una prova con l'amico Fabio qui, partendo dal bordo, l'asticella ruota piano e man mano che ti avvicini al punto focale gira sempre più veloce, quindi realmente queste strutture non sono solo tombe, ma sono anche degli accumulatori di energia. Anche le piramidi? Eh? Anche le piramidi, certo. Allora io ho chiesto a degli archeologi ufficiali, ma ste tombe dei giganti, dove stanno gli scheletri? E mi hanno detto questo, erano tombe di sepoltura collettiva, per questo le facevano così grosse, dice però a causa del tempo le ossa si sono sbriciolate. Al che io ho pensato? Ma i dinosauri? Non è vero che le ossa si sbriciolano, le ossa si fossilizzano. Quindi c'è qualcosa che non quadra in questo discorso, ma lo riprendiamo dopo, cioè torneremo nella zona di Siddi e di Paoli Arbarei. Intanto faccio un altro salto, dalla Sardegna mi riproietto in un posto particolare che sono le isole Bermuda. Chi è che ha sentito parlare del triangolo delle Bermuda? Alzi la mano. Sono contento. Allora nel triangolo delle Bermuda sapete bene che ci sono misteriose sparizioni dove spariscono aerei, navi, con tutto, cioè quando si creano queste situazioni non si ritrova mai nulla, manco una borsetta, cioè sparisce tutto, anche se a volte hanno ritrovato magari la nave ma è sparito tutto l'equipaggio. Ora nella zona delle Bermuda c'è l'isola di Bimini, vedete è abbastanza vicino l'isola di Bimini alla Florida ed è una delle zone dove ci sono state queste sparizioni. Ebbene nei fondali di Bimini di nuovo, vedete, ritroviamo delle strutture ciclopiche, chiaramente di origine umana, questi enormi massi allineati a pochi metri di profondità dal fondale, vedete? Vedete? Affascinanti rovine trovate qui a Bimini, The Bimini News, il giornale di Bimini. Ora c'è stato, vi ricordate di Enzo Majorca, il campione di apnea italiano? Bene, Majorca andò lì a fare delle immersioni e fu testimone dei misteriosi fenomeni tipo le acque luminescenti o le acque bianche che addirittura sono state viste dalle missioni Apollo nello spazio, che è un fenomeno che si verifica poco prima che accada la sparizione. E racconta Enzo Majorca che quando andò lì, parlando col pilota dell'aereo che lo condusse, gli chiese al pilota ma tu ne sai niente di queste sparizioni? E il pilota si mise a ridere e dice no io non ci credo a queste fesserie. Riparte il pilota e l'aereo sparisce, non si è più saputo altro. E Majorca non l'ha raccontata tutta perché lui disse quel triangolo non è maledetto, quel triangolo è benedetto e poi non dice altro. Allora dal triangolo delle Bermuda che è uno dei cosiddetti triangoli maledetti ci spostiamo verso l'altro triangolo tra virgolette maledetto che è il triangolo del drago che si trova vicino al Giappone, vicino all'isoletta di Yonaguni che è abbastanza lontano dalla parte sud del Giappone, adesso vediamo la cartina così ci rendiamo conto, vedete questa è la Cina, Taiwan, Yonaguni sta qui e questo è il Giappone, vedete Corea del Sud, quindi per quanto Yonaguni faccia parte del Giappone ma in realtà è vicinissima all'isola di Taiwan e alla Cina. Ebbene, qui la vediamo nella foto satellitare, vedete, quindi queste sono le ultime isolette giapponesi, Yonaguni diciamo che quasi chiude il territorio giapponese perché dopo c'è Taiwan. Ebbene, guardate un po' cosa è stato scoperto nel fondale di Yonaguni. Nel 1985 il giapponese Kikachiro Aratake, che era un sub di Yonaguni, in un'immersione scopre una gigantesca struttura perfettamente lavorata, guardate che roba, adesso vediamo tutta una serie di foto incredibili, questa intanto è l'intera struttura, vedete c'è una specie di strada, scale, taglie eccetera eccetera e ritroveremo anche in questa struttura, guardate un po' che meraviglia, ritroviamo anche in questa struttura megalitica, anzi super megalitica, perché riandiamo un attimo sulle misure, è un blocco di roccia lungo 200 metri, largo 150 con un'altezza nel punto di massimo sviluppo di oltre 20 metri. Vedete? C'è i perfetti tagli della roccia, questo è un taglio, come lo fai un taglio così? Veramente sembrano dei tagli laser, per quanto sono precisi, non c'è traccia sulle pareti di lavorazione a scalpellino. E poi come fai a spostare per lavorarlo un blocco di roccia così immenso? Dove poi ritroviamo, vedete, le stesse tecniche costruttive che abbiamo visto in tutti gli angoli del pianeta, quindi l'abbiamo girato quasi tutto, ma soprattutto un attimo focalizzando la tecnica di questo taglio particolare, lo ritroviamo da dove siamo partiti, perché tornando a Sakseo Aman, praticamente c'è questa zona che praticamente si trova, rispetto alla struttura che abbiamo visto prima dove ci sono le mura ciclopi, che si trova di fronte, quindi c'è il promontorio di Sakseo Aman, poi c'è una vallata che sarà larga 150 metri, poi c'è di nuovo un'immensa colata lavica da cui emergono queste pietre perfettamente lavorate. Vicino a Sakseo Aman, a pochi chilometri, c'è un altro luogo che si chiama Kenko, vedete, dove c'è una immensa come quella di Onaguni, è tutto un blocco unico di roccia che forma un promontorio ed è tutto tagliato così. È una cosa assurda, non ha nessuna logica dal nostro punto di vista un lavoro di questo genere, eppure stanno lì, queste pietre sono veramente delle mute testimoni di qualcosa che nell'antico passato accadeva ma che l'archeologia fa finta, non ne parla. La storia non ce la presentano con l'evidenza di questa unitarietà tecnico-costruttiva che dimostra una unitarietà culturale che nell'antico e remoto passato ha unito tutto il globo terrestre. Allora, siccome siamo in presenza di megalettismo ciclopico, ma sti giganti sono una leggenda o c'è qualche traccia? Noi i giganti più famosi che conosciamo sono sicuramente Golia, che viene battuto da Davide che poi gli batterà, gli taglierà la testa, quindi nella Bibbia, che non è un libro sacro ma è un libro storico che racconta cronache dell'antico passato del popolo ebraico, di fatti che sono accaduti. Quindi se Davide, che è uno dei padri dei re più famosi degli ebrei, degli israeliti, si racconta che lui ha sconfitto Golia, che era un gigante, beh, abbiamo una fonte comunque autorevole. E poi abbiamo un poema, che è quello di Ulisse, dove c'è un altro gigante notissimo che è il gigante Polifemo. Ma visto e considerato che erano giganti, è possibile che troviamo i resti di animali giganti come i mastodonti, cioè i dinosauri, e non troviamo i resti delle ossa giganti di questo popolo ormai scomparso, che anticamente sospettiamo, perché a stazza così, o come quell'altro, assume un'altra logica tutto questo, diciamo, assurdo lavoro sovradimensionato, quelle immense porte di Saxion Man, queste immense pietre megalitiche lavorate perfettamente, perché a proporzione ha logica con quella proporzione, non ha logica con la nostra proporzione. Allora, vediamo un po' se esiste qualche reperto anomalo. Ho scartato un sacco di roba perché non è verificabile, ad esempio ho scelto qualche anno fa un articolo della sezione indiana di quegli inglesi che sono autorevoli, come si chiamano? No, no, quelli che fanno ricerca scientifica che si citano, il National Geographic, mannaggia allora, dove furono pubblicate, fu pubblicato un articolo dove si diceva che una troupe, un'equip di archeologi avrebbe trovato delle tombe con ossa umane, con scheletri umani giganti, stiamo parlando di 6-7 metri di altezza, non le ho messe le foto, quindi magari ve ne parlerò la prossima volta perché il materiale è veramente tanto, il tempo che abbiamo non è tantissimo, che dopo poi voglio lasciare come sempre lo spazio alle vostre domande. Quindi viene pubblicata una notizia, vengono pubblicate le foto che sono veramente pazzesche, però National Geographic inglese si dissocia e alla fine fanno uscire la notizia che era stata uno scherzo e che usando dei bravissimi tecnici di Photoshop, quel programma di fotoritocco, hanno fatto questa beffa. Ma che io sappia il National Geographic non è che è tanto abituato a fare beffe o che un giornale si metta lì a prendere in giro i propri lettori, quindi la storia puzza un po', però scome è accaduto in India, non ho avuto modo e tempo nemmeno di approfondire, però ci spostiamo adesso in Texas dove c'è un museo dei fossili che si trova nella città di Crosbyton, è il Mont Blanco Fossil Museum, dove esiste questa copia di un femore che fu ritrovato da un ingegnere americano che lavorava in Turchia, mi sembra che fosse americano, quindi lui trasmise questa notizia al museo e fece dietro sua descrizione costruire da una persona capace la copia del femore che lui aveva trovato dentro un insieme di tombe dove c'erano numerosi scheletri di questi giganti che poi sono stati tutti distrutti. Quindi purtroppo in internet la faciloneria di molte persone scrivono che questo è un vero reperto, no è una copia che è stata rifatta dietro alla descrizione di questo ingegnere che lavorava, mi sembra, alla costruzione, non so se di strade o di altre cose, però spostandoci in Italia, questa è una scoperta assolutamente reale, a Trezzo, che siamo a zona Milano, è stato scoperto un guerriero longobardo alto 2 metri e 40. Quindi il gigantismo, se è esistito come io credo che sia esistito, cioè questa genetica continua a girare nell'essere umano normale e ogni tanto riappare. Io ho conosciuto, diciamo siamo in ottimi rapporti di questo signore, torniamo in Sardegna a Paoli Arbarei dove appunto il Sardegna è piena delle tombe dei giganti dove gli archeologi mi raccontano che sono sepolture collettive ma con gli scheletri sfarinati. Vi assicuro che lo scheletro di noi sardo è forse anche più duro di quello degli altri, anche la testa. Grazie Giorgia per la... Allora, questo signore si chiama Luigi Muscas, vive nel paesino di Paoli Arbarei, credo che abbia 700 abitanti se ci arriva, è sperduto in un'immensa zona, diciamo così, non ci sono alberi, ce ne sono pochissimi. Allora lui ha dedicato la sua vita alla battaglia di far accettare dalla comunità scientifica il fatto che gli antichi nuragici erano giganti, perché i nuraghe, così come li conosciamo oggi, sono una piccola parte di una immensa struttura la cui parte sovrastante è andata distrutta e la cui parte sottostante è tutta sottoterra ed è gigantesca rispetto alla torre che emerge, che già la torre che emerge è fatta di pietre megalitiche, così come li abbiamo visto. Ora Muscas non ha... che storia racconta? Racconta che lui da bambino aveva trovato una tomba di giganti non ancora conosciuta dagli archeologi e dentro c'era uno scheletro gigante che era mummificato e loro ci giocavano perché questo scheletro aveva ancora dei tendini e loro li schiacciavano e gli facevano muovere le mani a questo gigante, ma lui parla di un teschio grosso così. Poi vennero gli archeologi scortati dai carabinieri e si sono portati via tutto. Allora lui accusa l'archeologia sarda che trovano, distruggono tutto questo perché non si deve sapere, cioè non vogliono che venga fuori la storia, ecco perché il motivo, l'archeologia sarda ricchissima, gli inglesi hanno quattro pietre che si chiama a Stonehenge, a Veburi e qualche altro e ci va tutto il mondo, noi abbiamo in Sardegna cento volte di più ed è abbandonato nei terreni dei pastori, con una storia. Ecco questo è uno dei denti di giganti perché Paoli Arbarei, che è una contrazione dell'antico nome del posto che è la palude dell'acqua del re, perché si diceva che a Paoli Arbarei ci fosse la capitale dei giganti e i giganti giravano il mondo perché avevano la tele cinesi e con la forza del pensiero spostavano le navi, infatti le navi nuragiche, i bronzetti nuragici non hanno mai reni, quasi mai. A Paoli Arbarei, Luigi mi ha raccontato, che poi ne parlava anche il nonno e la nonna, che sono state distrutte anche su iniziativa dei religiosi un numero enorme di templi perché dicevano che era un'opera del diavolo perché in molti templi c'era una donna, una dea madre col bambino. Quindi i preti dicevano che è il diavolo che ci vuole ingannare creando statue che sono simili alla Santissima Vergine e quindi li hanno tutti distrutti. Mi racconta Muscas che c'era una zona che gli anziani chiamavano la zona dell'ospedale dove c'erano protesi dentarie, protesi di arti e tutto questo è andato distrutto. Questo è uno dei denti che mostra Luigi, guardate questo è un pezzo di mandibola con due denti ancora attaccati, guardate questo dente. Qui stiamo parlando di uomini che hanno 5-6 metri d'altezza per avere questo tipo di proporzione. Io le ho viste di persona tutte queste cose, siamo andati anche qui a Santa Anastasia che è una zona dove stanno facendo degli scavi, erano emerse delle tibie lunghe a 1,70 metri, cioè la sola tibia come quella che ci è esposta in copia al Fossil Museum in Texas. Queste sono foto che sono state scattate antecedentemente a quando ci sono andato io. Quando ci sono andato io già le avevano fatte sparire e non si poteva accedere al posto perché era tutto recintato. Poi Luigi mi ha portato, qui lo vediamo lì nella tomba dei giganti che abbiamo visto prima, mi ha portato in un posto dove c'è una piramide a gradoni e questi sono i massi che sono crollati dalla parete della piramide. Non lo sa nessuno che in Sardegna ci stanno le piramidi, manco io. Sapete che emergeva la testa? Gli archeologi ci hanno messo un grandissimo telo sopra per occultarla e l'hanno tutta recintata. Ora si recinta ciò che tu hai paura che venga portato via, ma io non vado in macchina a caricarmi un masso di questa portata. Le facce a vista di questi massi sono tutte incastrate di pietre irregolari di quarzo bianco, quindi quando la piramide era tutta scoperta brillava sicuramente alla luce del giorno. Quindi di tutto questo non si sa assolutamente nulla e Luigi fa questa battaglia, ho scritto vari libri, ma la cosa più strabiliante è che nei pochi giorni c'era oggi non c'è Luca. Ah, Luca, ciao. Con Luca siamo andati a intervistare gli anziani del posto, ne abbiamo conosciuti alcuni e tutti ci hanno confermato che da bambini loro i giganti ci giocavano, cioè era una cosa comune per loro. La leggenda degli anziani dice che i giganti venivano dalle stelle, erano molto evoluti, però a un certo punto si inorgoglirono e si ribellarono le leggi di Dio e Dio li ha puniti distruggendoli. Quindi questo discorso di queste immense strutture completamente sotterrate, che ritroviamo ai vari angoli del pianeta come quel Moai che avrà avuto minimo 8-9 metri di altezza, è successo qualcosa nell'antico passato che ha completamente sepolto, lasciando poche tracce sparse qua e là, incredibili strutture che appartenevano a questa antichissima, sconosciuta e molto avanzata civiltà umana di cui noi non sappiamo più nulla. Allora il discorso pazzesco è che in tutta la zona dove ci sono i resti dell'antica capitale dei giganti ci sono, siamo stati su una collina che di fatto è la sepoltura di un'immensa reggia nuragica alta 55 metri con 9 torri, con massi della stazza più o meno di questo qui. Lì non ci scava nessuno, quindi c'è un immenso terreno capitale archeologico sepolto nella zona di Paolo e Arbarei che è completamente abbandonato a se stesso. Allora questo è uno degli ultimi reperti, è un anello in ferro perché Paolo e Arbarei, la palude dell'acqua del re, non solo era la capitale dei giganti ma aveva anche un porto che si collegava al mare. E mi racconta Luigi, ci ha raccontato Luigi che prima c'erano giganteschi anelli di ferro che erano fusi nelle rocce ai quali i giganti attraccavano le lononavi, questo è uno dei più piccoli e vedete non è corroso, c'è un leggerissimo strato di ruggine però non è corroso per un ferro che è molto molto vecchio. Queste anelle sono ormai state tutte perse, c'è stato molto sciacallaggio dei predatori di tombe, abbiamo avuto modo di parlare anche con un tombarolo, pentito ormai una persona adulta, lo faceva da ragazzino e lui ci ha raccontato che trovarono una tomba di un gigante, ai quattro angoli della tomba c'erano quattro screlitri di umani normali, quindi i giganti e gli umani coabitavano, ma ovviamente i giganti comandavano perché stai zitto se no. Ma dice questo gigante aveva una spada e dei gioielli, ha detto che gli orecchini delle gigantesse erano così grossi d'oro. Ora questo vi può far fare delle ipotesi. Allora, essendo la capitale dei giganti e i giganti venivano dalle stelle, avevano anche una tecnica astronautica. Ebbene, siamo stati lì alcune sere e sopra la zona di Paolo e Arbarei c'è realmente un traffico nel cielo, assurdo, noi tutti vogliamo vedere UFO, vai lì, quasi ogni sera vanno e vengono in continuazione, addirittura io personalmente e anche Fabio, Luca no, non l'ha visto, però siamo stati testimoni, io ho visto a un certo punto, mi giro e vedo all'altezza di un tetto una grossa sfera di una casa, pensavo fosse un lampione. E Luigi si mette a ridere e mi dice no, aspetta un attimo, di colpo questa sfera piglia e parte verso il cielo, ma tranquilla, fino a che è arrivata e diventata grande quanto una stella come le vediamo e si è fermata lì. Una seconda sera che siamo andati, più tanti altri fenomeni, un'altra seconda sera che siamo andati, ne abbiamo vista una arrivare in orizzontale, poi si è fermata ed è atterrata e scesa in verticale, sarà stata 5-6 km, era nella zona più lontana della città perduta dei giganti, ma questi fenomeni luminosi di queste sfere che si presentano a volte accade anche di giorno come in questo caso e sono oggetti che possono variare la loro dimensione. Quindi tutti questi discorsi ovviamente ci conduce a un unico ragionamento, cioè che la storia del diluvio è vera, perché le tracce evidentissime di un megalittismo assurdo e illogico secondo la nostra condizione, anche a livello di dimensione e di struttura, ha una sua logica se parliamo di giganti. Quindi quello con cui combatté Davide, o quello che è riportato nella storia dell'Odissea di Ulisse, evidentemente sono le tracce e il rettaggio fisico e culturale di un'antichità di cui noi abbiamo perso memoria. E anche la storia del diluvio, che noi tutti conosciamo il discorso dell'arca di Noè, ma poche persone e a scuola non ce lo dicono che la leggenda del diluvio è in tutto il mondo, cioè tutte le culture hanno il loro Noè. Ad esempio, nella remota città boliviana di Tiahuanaco, che oggi si trova a circa 4.000 metri d'altezza, ma era un porto, un porto megalittico, ebbene è stata trovata questa incisione che proprio racconta un diluvio. Ma ci spostiamo nello Yucatan, quindi il territorio Maya. Allora questo fregio fu trovato dall'archeologo austriaco Theobert Mahler, credo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, perché Mahler comunque muore, mi sa, prima della prima guerra mondiale. Lui trova questo fregio Maya, dove vediamo gente che sta affogando, quindi una scena del diluvio, vulcani che eruttano, strutture megalitiche che crollano, questa è una piramide, se avete la scalinata e i blocchi che cascano a terra, purtroppo nella seconda guerra mondiale questo fregio è andato perso, però fortunatamente è stata conservata all'immagine. Quindi il discorso del diluvio è un discorso universale e la storia di Noè non è altro che una delle tracce della scomparsa di un'antichissima e evoluta civiltà che ha dominato l'intero globo, una civiltà che si spostava, che poteva andare dall'isola di Pasqua nel mezzo dell'oceano Pacifico, venire in Sardegna, andare in Egitto, eccetera, eccetera, eccetera. Geneticamente però ogni tanto viene fuori e quindi abbiamo in epoca moderna, vedete che abbiamo ancora i giganti, sono pochi perché la loro struttura con la situazione diciamo di mescolanza gli crea un enorme numero di complicanze fisiologiche, però i giganti, come vedete bene, ogni tanto ancora compaiono. Guardate questo signore qui. Ora, per andare a 10, 15, 20 mila chilometri di distanza ovviamente ci puoi andare in nave, ma una volta che arrivi in spiaggia come vai a Machu Picchu? Dove a Machu Picchu trovi lo stesso queste strutture megalitiche, ho le immagini però non ce le ho fatte a Montale che già sono tantissime, quindi probabilmente non solo navigavano questi antichi, ma anche volavano. Andiamo a vedere se realmente è così, visto e considerato anche che nella leggenda sarda i giganti venivano dalle stelle, quindi avevano una tecnica aeronautica ma anche astronautica. Torniamo un attimo in Perù dove c'è quella favolosa vallata che è la vallata di Nazca, dove ci sono queste assurde linee perse all'infinito che non si sa che cavolo significano. Con Luca abbiamo intervistato un archeologo che Rojas e anche all'epoca, almeno 2005, era uno degli archeologi più famosi del Perù e gli abbiamo chiesto, ma professore, ma cos'erano queste linee? E lui, ah beh, chiaro, l'abbiamo scoperto, sono antichi camminamenti spirituali. Ah che bello, andiamo, ci facciamo una passeggiata. No, no, si rovinano. In che senso? Se sono camminamenti ci si può camminare, non si fa un camminamento dove non cammini perché si rovina. È come uno che si fa alla casa ma non c'entra perché gli casca in testa. Ecco, ti danno queste risposte allucinanti che tu dici. O è scemo o lo fa apposta, che non è possibile. E altre cose ancora che vi racconterò in un'altra occasione, su un'altra pietra, ti ricordi Luca, la pietra quella lì, quella di Canò, quella lì sì, perché? Quindi non solo ci sono queste assurde linee che si sviluppano perfettamente dritte per chilometri, chilometri e chilometri, ma ci sono anche disegni al suolo immensi che possono essere visti solo in volo. Quindi la destinazione di questi segni, di questi simboli non era per chi stava a terra, perché poi noi ci siamo entrati, non ci capisce nulla perché sono talmente grandi, considerate che un uomo sarà come la punta di un laser. E poi è la piana di Naze che è un'immensa piana di roccia e terra con un altissimo contenuto ferroso. Che hanno fatto per fare questi disegni? Però se sposti un po' questo strato ossidato, sotto c'è un suolo, probabilmente a natura credo che sia silicea, quindi il contrasto tra il rosso cupo dello strato superiore e la chiarezza dello strato inferiore crea questa visibilità. E si mantengono inalterati nei secoli perché Nazca è uno dei luoghi più secchi del pianeta, non ci piove quasi mai. Quindi in realtà le figure sono molto delicate, cioè se uno va lì a pedate le rovini, quindi non potevano essere camminamenti, erano altre cose. E poi chi è questo? Non è una figura umana, guardate che tipo di scarpe, saluta, chi sta salutando? C'ha questa specie di testona con due occhiali, disori, chi sta salutando? Questa è una collina che sta lì a Nazca. Quindi ci sono delle cose illogiche ma che hanno logica se consideriamo che erano destinati a qualcuno che poteva vederle dall'altro, non sono le uniche. Questa è un'altra meraviglia che è il candelabro di Paracas, anche qui la persona umana è meno della punta del laser, ed è talmente grande che è visibile da chilometri e chilometri, questo è il Pacifico, quindi da chilometri dal mare tu vedi questo candelabro perché si staglia sulla parete brulla della struttura geologica di quel logo lì. Ma questo discorso ci porta adesso in Colombia dove esistono un considerevole numero di monili d'oro, guardate un po' che roba, chi li conosceva? Tre persone, quattro. Monili d'oro che sono tutti modelli di avioggetti, ne vediamo più in dettaglio, guardate che belli, sono di queste dimensioni. Di che epoca sono? Ma li datano 1500, ma come fai a datare il metallo? Non è così semplice, poi io non mi fido più di quello che dicono gli archeologi, che è sempre falso. Quanto sono grandi? Beh hanno il loro valore, sono dei begli oggetti, vedete? Eri, perfetti, e non sono aerei ad elica, questi sono avioggetti. Ora, quei bontemponi di History Channel li hanno fatti costruire, questo è il modellino di riferimento, li hanno fatti grandi in scala e volano, cioè dal punto di vista della tecnica aerodinamica sono degli aerei perfettamente dimensionati per il volo, vedete il modellino? Quindi, erano dei sopranobili, i ragazzini giocano con l'aeroplanino. Eccoci, facevano anche i monili, forse perché all'epoca c'era una classe dominante, molto evoluta, e un popolo che vedeva queste cose in un certo senso sacro, perché nell'antichità, lo vorrei ricordare, gli dèi vivevano con gli uomini. Ora c'è da stabilire. Chi erano gli dèi? Ad esempio, in Bolivia c'è la Puerta del Sol di Tiahuanaco, dove c'è la figura del loro dio che è Viracocha. Viracocha era accompagnato da dei collaboratori, Viracocha è quello che ha dato inizio all'antica civiltà boliviana, che poi viene chiamato secondo vari nomi e secondo delle diverse etnie. Viracocha fu l'iniziatore della civiltà inca e poteva volare. I suoi collaboratori venivano chiamati gli splendenti. Poi, ripeto, in un altro incontro, magari ne faremo un altro, vi mostrerò altre meraviglie dell'antichità. Quindi vedete bene che se uniamo tutti questi brandelli tra costruzioni, opere incomprensibili come i disegni e la piena di Nazca e questi monili, perfettamente riproduzioni in scala di reali oggetti che possono volare, incominciano ad acquistare una logica. Ma estremizziamo un po' di più perché, visto che i giganti venivano dalle stelle, poi ritroviamo, questo l'abbiamo già visto la volta scorsa, ritroviamo un qualche cosa che è perfettamente coerente con qualcosa che per noi è oggi molto comune, una tuta pressurizzata. Questo signore con queste mani guantate regge qualcosa, ha sulle spalle qualcosa di strano e ha questa riproduzione qui che se voi immaginate un attimo a un motociclista che si tira sulla visiera, abbiamo di colpo l'uomo uccello sacro degli Aztechi, dove dentro le fauci di un uccello appare la faccia di un essere umano. Infatti vedete questo può essere visto anche come un becco aperto nelle quali c'è la testa di un uomo. Quindi se l'astronauta apre la sua visiera abbiamo una conformazione che qui è stilizzata. Ci spostiamo nel Mali, in Africa, e c'è la tribù dei Dogon che ha un dio che si chiama Beppe Kororoti e questa è la sua rappresentazione. Cioè di nuovo abbiamo una tuta pressurizzata con un casco e la cosa assurda è che quando i Dogon furono conosciuti dall'uomo bianco conoscevano perfettamente la posizione della stella Sirio B, che è una stella invisibile occhio nudo. L'hanno scoperta modernamente gli astronomi grazie alle tecniche e alle macchine scientifiche di investigazione astronomica attuali. Quindi solo una civiltà avanzata poteva conoscere Sirio B. E i Dogon dicono con grandissima tranquillità che fu il dio Beppe Kororoti che venendo dal cielo li visitò secoli e secoli fa e gli parlò del suo luogo di provenienza che era Sirio B, lasciandogli le orbite di queste stelle che loro hanno conservato perché si tramandano questa sacra conoscenza orale di generazione in generazione e hanno questo rito e questa cerimonia dove loro con, vedete, dei giunchi intrecciati, probabilmente di palma, riproducono l'aspetto che aveva il dio Beppe Kororoti. Andiamo di nuovo nello Yucatan, città maya di Palenque, dove c'è la famosa stelle del dio Pakal. Ebbene, il dio Pakal è inserito perfettamente in una struttura a razzo, qui abbiamo le fiamme, vedete, è su un sedile, ha dei bracciali che possono essere visti anche come la parte terminale di una specie di tuta, ha un respiratore al naso e sta chiaramente manovrando qualcosa, vedete, finisce appunto. Ora, se voi parlate con l'archeologo ufficiale vi dirà che questo è l'albero della vita, che questo è il pappagallo che significa la sacralità, bla bla bla, ma nell'ottica di una cultura che viene a contatto con una tecnologia sofisticata e ovvia la sacralizzazione, la divinazione di qualcosa di incomprensibile che poi viene riprodotto, addirittura crea degli schemi religiosi. Ma fortunatamente questo discorso qui, cioè di un piccolo trasportatore a razzo del remoto passato, non è rara e recentemente sono emersi altri oggetti maya, vedete questa è una piastra che i sacerdoti portavano al petto, qui ci sono i buchi per appendere, vedete che abbiamo di nuovo un altro shuttle a razzo dove a guidare stavolta è un essere extraterrestre, addirittura sta trasportando un disco volante. Ed è nel cielo, vedete, abbiamo i pianeti. Ci spostiamo dai maia, veniamo in Turchia e guardate un po', un perfetto oggetto a razzo di queste dimensioni qui, lo tenevano in magazzino, sapete perché? Dicevano che era un falso, sapete perché? Semplicemente, beh, impossibile che nell'antichità ci fossero così a razzo, ma che c'entra? Chi l'ha fatto tirare fuori è stato Zeccaria Sitchin che gli ha detto, beh, esponetelo, poi lasciate allo spettatore la decisione se possa essere vero o meno. Gli manca la testa, è la parte superiore, vedete, è di nuovo una tutta pressurizzata, un tubo respiratore ed è chiaramente la rappresentazione in termini reali di questa cosa qui, niente di più e niente di meno. Quindi vedete che abbiamo interessanti indizi che la storia non è come ce la raccontano, tra l'altro sono indizi talmente pesanti, alcuni che è difficile toglierli da lì, stanno lì, basta non parlarne e facciamo tutti finta che non ci sono. Invece ste gigantesche pietre megalitiche esistono. Ora, tutto questo discorso che vi ho fatto in relazione a questo oggetto che poi viene divinizzato, quindi l'astronauta diventa il dio, Pakal, l'oggetto diventa l'albero della vita e tutta la minestra che vi ho detto, ma in epoca moderna è accaduto qualcosa di simile. Allora, durante la seconda guerra mondiale si chiama culto del cargo, o cargo cult, a volte lo usano in inglese. Allora, nelle isole della Micronesia, durante l'avanzata degli americani verso il Giappone, molte di queste isolette furono adibite a base di appoggio, dove furono costruiti dei rudimentali aeroporti dove gli aerei cargo trasportavano merci e le tenevano lì in custodia che dovevano rifornire l'avanzata degli americani verso il Giappone. Che succede? Che in queste isolette all'epoca esistevano tribù che non avevano mai avuto contatti con l'uomo bianco. Quindi che accade? Accade che questi indigeni vedono arrivare gli dèi dal cielo. Gli dèi non lavoravano e nei loro magici uccelli tonanti avevano merci di ogni genere e tipo, cose per loro fantascientifiche. E che è successo? Finita la guerra, gli americani hanno smontato tutto e se ne sono andati, abbandonando i poveri indigene che dopo aver conosciuto cioccolata, zucchero e tante altre bellezze, che forse era meglio che non le conoscevano, aspettavano il ritorno degli dèi e hanno creato una religione che si chiama culto del cargo. Hanno costruito aerei di paglia, una classe sacerdotale e dei fuochi sacri, vedete? Addirittura fantocci di piste d'atterraggio e i sacerdoti e gli sciamani del culto del cargo pregavano e tenevano accesi i fuochi sacri sperando che gli dèi, cioè gli americani, tornassero lì. Si è scoperta questa cosa qui negli anni 60 perché gli antropologi, quando vennero a sapere che era accaduto questo incontro, diceva che andiamo a vedere che è successo a distanza di 30 anni, hanno trovato queste robe qui. Questa è un'immagine di un film documentario che si chiama, lo trovate anche su YouTube, si chiama Gli extraterrestri, torneranno, troverete parecchie di queste cose, vedete? Gli indigeni intorno al fuoco sacro che aspettano fiduciosi grazie alle loro preghiere che gli dèi tornino con i loro magici carri di fuoco. Ora tutto questo discorso ci porta anche a una conseguenza, ma se tutto questo è vero ci sarà qualche traccia anche tecnologica? Andiamo un attimo a vedere e troviamo gli oparts, vuol dire out of place artifacts, cioè oggetti fuori luogo. Andiamo a Delhi in India e c'è questa colonna di ferro, si chiama colonna di ferro colonna di asciocca, alta 7 metri e 20 per un diametro di 41 cm, pesa 6 tonnellate, ha circa 1600 anni e non è corrosa, vedete? Quindi c'era qualche tecnica, come si chiamano le tecniche? tecniche metallurgiche che hanno prodotto un ferro che oggi ci farebbe comodo perché non arrugginisce. Poi ho letto delle spiegazioni assurde perché hanno detto siccome all'epoca si usava la carbonella, la carbonella emette dello zolfo, ma scusa se c'era una metodologia antica che ti faceva il ferro che non arrugginisce perché non la fai anche oggi? Quindi queste spiegazioni sono abbastanza assurde. Le sfere di Kleskdorp sono una serie di piccole sfere metalliche, vedete, di diametro tra 1 o 2 cm che sono state ritrovate nelle cave di pirofilite verso la cittadina di Ottosdat in Sudafrica. Allora, secondo lo strato nelle quali queste sfere sono state trovate, dovrebbero avere un'età di 3 miliardi di anni. Ovviamente non le abbiamo fatte noi, però stanno lì. Altro reperto assurdo, la pietra di Lanzu in Cina fu ritrovata da un tizio, una pietra che ha 6 per 8 cm a forma di pera, colui che la ritrovò pensava fosse un geode, quindi vuoto dentro, invece quando la va a spaccare ci trova dentro una punta metallica filettata. Spostiamoci in Egitto con il disco di scisto cosiddetto, questo qui, che non si capisce bene che cavolo sia, sembra la pala rotante di qualche cosa. Lo scisto è una roccia estremamente friabile, è difficilissimo lavorarla perché tende a sfaldarsi. Sapete come l'hanno esposta? Porta incenso. Quindi di questi oggetti ce ne sono parecchio, mi sono limitato a una piccolissima rassegna. Allora, quando gli archeologi trovano qualcosa di spiegabile è un oggetto votivo, un porta incenso, sempre robe così, oggetto sacro. Ma questo oggetto ha una chiara evidenza tecnologica. Tra l'altro la lavorazione dello scisto metterebbe in crisi anche gli artigiani attuali che lavorano la pietra, qui lo vediamo in un'immagine più grande. Però è esposto lì. Allora, quella navetta turca era falsa perché non potevano esserci navette nell'antichità. Questo è un porta incenso, anche se chi l'ha detto è un porta incenso, l'hanno deciso loro. Spostiamoci in Russia, a Monti Urali. Nel 92, io ero in Russia, andrei in Russia subito dopo queste scoperte, i ricercatori erano al massimo cielo, al settimo cielo, perché nei Monti Urali furono trovati queste nanotecnologie, oggetti con lavorazioni nanotecnologiche. Questo è ingrandito cento volte. Guardate la perfezione della lavorazione di queste spirali sui quali poi si inserisce un'asta centrale. Allora, più o meno si ipotizza che siano oggetti che hanno 300.000 anni di antichità. Chi possa aver fatto queste cose 300.000 anni fa non si sa. Mi ricordo che parlai con un ricercatore russo, si chiama Valery Uvarov, e lui sosteneva che potevano essere degli oggetti di qualche oggetto extraterrestre che fu perduto o ebbe un incidente in quella zona degli Urali. Altro oggetto, questo è conosciutissimo, è la macchina di Antichitera, fu trovata a largo dell'isola di Cerigotto, grazie dei pescatori di Spugna, si fa risalire al secondo secolo a.C. Allora, la macchina di Antichitera, che poi è stata studiata con grandissima, diciamo così, perizia e accuratezza, vedete, era uno strabiliante meccanismo che serviva per calcolare le fasi lunari e solari, se non erro, solo che nel primo secolo avanti Cristo, chi cavolo poteva costruire oggetti meccanici così sofisticati, anche perché di fatto queste cose incominceranno ad apparire dopo l'anno 1000, quindi mille anni prima, chi le faceva queste cose, chi aveva la scienza e la tecnologia per dei calcoli così sofisticati e lavorazioni così sofisticate, tra l'altro l'oggetto non è molto grande, così più o meno. Comunque, siccome si trova ad Atene, è stato studiato con molta serietà, oggi esiste anche la copia completamente ricostruita. Bene, termino qui, credo comunque di avervi dato un po' da pensare che non è così come ce le raccontano. Grazie. Allora, per Giorgio, siamo pronti per le domande? Bene, se ci sono domande, a disposizione. Allora, un attimo di pazienza perché il percorso è lungo questa sera, siete in tanti. Volevo ricordare anche che per quanto riguarda i giganti, traccia dell'esistenza dei giganti c'è anche nel Nuovo Testamento, in cui si parla degli angeli che si scesero sulla terra, quindi potremmo pensare che non erano angeli e si congiunsero con le figlie degli uomini, dice la Bibbia, e nacquero dei giganti. Ora, a parte l'idea, avendo partorito tre volte, di partorire dei giganti, credo che per le figlie degli uomini non fosse il massimo. E però, proprio per questa commistione che c'era stata, poi furono distrutti perché si erano corrotti con gli umani, diciamo. Infatti la leggenda che mi hanno raccontato questi anziani della Sardegna collima perfettamente con questo discorso qui. Ma io credo che all'epoca esistessero in realtà sofisticatissime tecniche genetiche, quindi il discorso anche della commistione delle razze, poi bisogna vedere se avveniva secondo la via naturale o secondo altre vie, perché nel momento che tu hai una conoscenza scientifica di ciò che noi oggi chiamiamo religione, il discorso ti assicuro che prende tutto un altro aspetto. Quindi chi viene dalle stelle questa conoscenza ce l'ha? Poi in riferimento all'astronauta di Palenche, io ricordo che ero molto piccola, negli anni settanta e lessi un articolo in cui diceva che proprio nei laboratori della NASA era stato ricostruito, ma un altro astronauta poi che c'è, ed erano state ricostruite sia la navetta che la tuta che questo disegno aveva e che erano risultati perfettamente funzionanti infatti. Quindi parliamo già di 40 anni fa che se ne parlava. Sì, è come lo scienziato Kazantsev che studiando le statuette Dogu e feci vedere nel primo incontro ha brevetato un tipo di cerniera che poi ha acquistato la NASA per metterlo sulle tute degli astronauti, quindi quelli veramente erano antichi astronauti, cioè non è una favoletta. Poi ora il discorso, purtroppo il potere ci vuole tenere dentro un sistema che è anche una gabbia mentale per cui noi dobbiamo vedere le cose in un certo modo che è funzionale ai loro interessi, ma in realtà la storia del mondo è estremamente più bella e complessa di quello che ci raccontano loro, soprattutto vedi, se l'umanità prendesse consapevolezza che altra civiltà antica avanzata è stata veramente distrutta, ci porremmo il problema del nostro comportamento poco etico attuale che sta distruggendo di nuovo la vita del pianeta, ma questo le è degli interessi delle grandi multinazionali. E quindi allora ci raccontano tutte queste favolette che sono, se volessimo o se volessero, facilmente smentibili da queste foto che io vi ho fatte vedere, perché è impossibile in termini statistici che in tutto il mondo ci sia questa tecnica costruttiva così precisa e così assurda con questo megalittismo fuori da ogni logica. Ha un'altra logica che non è la nostra. Qualche altra domanda? Siamo liberi, se avete anche domande dei vecchi incontri sono qui, non è che adesso dobbiamo parlare solo di pietre. Allora abbiamo visto il fossile del gigante, quello dei 2,40 m, però penso che poi dopo abbiamo visto un po' di foto di persone giganti eccetera eccetera, però basta che ti guardi intorno e accendi la televisione, anche guardi una qualsiasi partita dei basket, poi vedete tranquillamente persone che alti 2,20 m, 2,30 m, tranquillamente. Dopo i due eventi cominciano ad esserci grossi problemi. Quindi il fatto secondo me, un conto è parlare di una persona molto alta, un conto è parlare dei giganti, perché alla fine è anche considerata una malattia il gigantismo, è come se io dicessi, esisteva anticamente anche una civiltà nana, perché c'è una malattia, il nanismo delle persone basse. Ma vedi Alex, io posso dire qualsiasi cosa per giustificare qualcosa che è fuori luogo, io non ho detto che quelli sono giganti, ho detto che questa genetica gira e ogni tanto appare, perché se è una malattia la persona deve essere deforme, invece quelle sono persone perfettamente proporzionate e non sono la norma, sono l'eccezione, che io da quando sto nelle Marche ancora non ho visto manco uno. Cioè per vederne un gruppo devo andare a trovare una squadra di basket, ma la squadra di basket è la riunione di persone prese da tanti posti, quindi non è la norma, è un'eccezione il gigantismo. Quindi per quanto poi ci sono dei processi che adesso non è il caso che io vi spiego, però di fatto noi non dobbiamo ragionare sulle chiacchiere, noi dobbiamo ragionare sui fatti. I fatti quali sono? Che esistono non solo le ossa o le anomalie, esiste tutto un insieme logico che porta a quello, se no non ha senso fare sacsio a man, chi la fa? Non ha senso fare una porta così grossa, non ha senso fare questi massi giganti, non ha senso fare queste statue gigantesche, non ha nessun senso, ha senso se è rapportato a esseri di dimensioni maggiori, con un'altra forza e un'altra tecnologia. Sì, sì, no, no, ma non ho mai messo in dubbio magari la teoria che in un passato ci potevano stare queste persone, però abbiamo visto magari il femore di un metro e settanta, che magari apparteneva a una persona che poteva essere di 4, 5, 6, anche di più, e una persona molto alta, magari di due metri e qualcosa. Certo, ma ripeto, il potrebbe essere o il potrebbe non essere va comunque contestualizzato negli elementi che tu hai a disposizione, perché questo vizio che ci hanno ficcato nella testa che tutto può essere, è un assurdo, tutto può essere, non è vero, se io ho un panorama di fatti che mi dice che non è così, non può essere, è un'altra cosa, se no è sempre l'ha ammazzato lei, ma può essere, come può essere? Se ci sono le prove che l'ha ammazzato quello, quello non è che può dire al giudice, ma può essere, ma può essere, ci sono le prove e va in galera. Chiaro? Cioè il discorso è che l'ortodossia tende sempre a giustificare in modo assurdo ciò che invece è evidente, come quell'archeologo che a noi ha detto, sono camminamenti sacri, bene andiamo a camminare, no non si può, si rovinano, ma è una risposta logica, è una risposta da idiota, è una risposta così, eppure ti dà quella, quella è l'ufficialità, quindi l'ufficialità mi può dire che è una malattia, ma l'hanno deciso loro, dove stanno le prove? Oggi danno gli psicofarmaci ai bambini che sono super intelligenti e super vivaci, quindi se loro decidono il fatto che tu hai un figlio super vivace diventa una malattia, ma a casa mi è anche una malattia di essere troppo stupidi. Allora a chi gli diamo gli psicofarmaci? Mettiamoci d'accordo. Poi l'ultima cosa, l'ultimissima, è tipo sulla Bibbia parlava di Golia che era un gigante, poi abbiamo visto la foto di Polifemo, questi giganti erano malvaci? Sì, infatti la stessa leggenda sarda, compresa quella biblica, dice che furono distrutti perché si ribellarono a Dio. Infatti, cioè ci siamo mai chiesti, ma perché in tutto il mondo la maggior parte dell'antichità è sepolta? Perché? Cioè le mura romane stanno sempre lì, non sono sepolte. Quindi è accaduto qualcosa a livello planetario, gli ha sepolto tutto, cosa può seppellire con 7, 8, 10 metri di terra qualcosa? Un grande diluvio, uno tsunami pazzesco. La logica è siccome in tutte le culture questa storia del diluvio c'è, è accaduto. Cioè l'antica società del passato è stata spazzata via da un cataclisma di proporzioni globali. E ci sono le prove in tutto il mondo, perché in tutto il mondo ci sono le prove che la cultura era uniforme, costruivano tutti allo stesso modo, più o meno, ma tutti allo stesso modo. Quindi oggi abbiamo enormi grattacieli in una città, grattacieli più piccoli in un'altra, ma sempre grattacieli abbiamo. Quindi questo è un discorso sensato, quell'altro è un discorso insensato, soprattutto se troviamo queste cose all'isola di Pasqua, che è un posto talmente remoto che quelle cose hanno logica solo se quello è un pezzetto di un continente che adesso è tutto sott'acqua. Qual è la prova? I resti di Onaguni, i resti di Bimini. C'è più prova di quello, ma ce ne sono tanti altri sparsi per il mondo. Quindi l'antico passato è stato seppellito e affogato e abbiamo perso la memoria. Ad esempio, quell'essere, il mio maestro, chiamiamolo così, Eugenio, ebbe in formazione dagli extraterrestri, che quell'essere che i Mai hanno divinizzato, il Dio Pakal, era un marziano che cento milioni di anni fa, assieme ad altri colleghi che sono atterrati in varie parti del pianeta, scamparono a un disastro gigantesco che di fatto ha distrutto la civiltà marziana. Ma ne parleremo nel prossimo appuntamento. Quindi Marte oggi è non solo diverso da come ce la raccontano, e vi farò vedere delle cose che sono proprio scandalose. Ma è anche un immenso parco archeologico dei resti della civiltà marziana che intratteneva cordialissimi scambi culturali con la nostra. Quella che è scomparsa. Salve. Stasera, stando la sentire, ho fatto dei collegamenti con delle nozioni che già avevo, e quindi volevo sapere che ne pensa. Prego. Allora, non so se lei conosce Jonathan Swift. Jonathan Swift. Ah, Gulliver. L'autore dei viaggi di Gulliver, che praticamente Gulliver incontrava dei giganti. Sì, le liputziani e i giganti. C'è una notizia strana su Jonathan Swift. Lui su degli scritti ha lasciato il moto di rivoluzione della stella Sirio B. La cosa strana è che è stata scoperta questa cosa 200 anni dopo dagli astronomi. E quindi, cioè, mi sembra... Swift conosceva anche i moti di Phobos e Deimos, i due satelliti di Marte. Esatto. Quindi, certo. Ma vedi, non mi ricordo se l'ho fatto vedere, c'è una corrente di conoscenza, diciamo così, iniziatica, attraverso i secoli, che ha conservato e tramandato queste verità, che non sono mai state, diciamo, diffuse alla massa perché il potere faceva fuori chi osasse violare questo diktat, questa imposizione. Ma già in tempi recenti, ad esempio, Voltaire sapeva benissimo che noi eravamo visitati da esseri provenienti dal cosmo perché Voltaire si intratteneva con grande piacere in colloqui con questa gente qui, che lo facevano salire sulle loro astronavi, dove lui vedeva delle cose che in una lettera autografa giunta fino a noi ha descritto. Ad esempio, lui chiama la videoregistrazione, le chiama le immagini parlanti, cioè la televisione. Cosa intende parlare Voltaire quando parla delle immagini parlanti? È come il culto del cargo, cioè ha visto qualcosa che nella logica della scienza dell'epoca non aveva nessun senso e quindi le ha descritte con un linguaggio non tecnico, oggi noi la chiamiamo televisione, che è un linguaggio scientifico, cioè trasmettiamo delle onde che creano un'immagine, quindi una televisione. Quindi Swift probabilmente ha avuto accesso o diretto o indiretto a questa informazione, facevano così, le mettevano in romanzi come ha fatto Giulio Verne, o come ha fatto Leonardo da Vinci, creavano delle cose apparentemente artistiche e accettabili, cose accettabili, ma facevano passare comunque un'informazione che altrimenti gli avrebbe causato grossi problemi. Qualche altra domanda? A che ora andiamo a dormire? Adesso. La questione del cargo, del carro di fuoco di Ezechiele, quello è noto, ma la conquista dell'America del Sud da parte degli spagnoli è stata una rovina, perché quando gli spagnoli sono arrivati con i cavalli e poi loro erano più alti e più anni, gli incas li hanno presi per degli dei, esattamente come quella tribù ha preso gli americani. Gli hanno presi per degli dei e quindi hanno cominciato a fare sacrifici umani lungo le piramidi. A quel punto Cortezza ha deciso di sterminarli tutti perché si è spaventato. No, già li facevano. Perché loro già li facevano, avevano visto. Arrivavano gli dei e hanno aumentato i sacrifici. E Cortezza li ha sterminati tutti perché ha avuto paura di questi sacrifici. No, volevano loro, Anna. Tutti immagini? Facciamo l'ipotesi. Noi prendiamo tutti insieme una nave e sbarchiamo in un posto dove la gente usa per adornare le case biglietti da 500 euro. Che ci succede nella nostra testa? Loro volevano loro, ovviamente, andati come conquistatori, però sarebbe andata diversamente diciamo la questione. E poi molte cose che tu hai detto stasera, sia la questione di Marte che è stata distrutta prima ancora del diluvio universale della Terra e di altro, ci sono tante scuole iniziatiche che lo dicono. Anche adesso attualmente il ragazzo indaco che sta andando in giro per il mondo lo ha detto assolutamente che Marte era stata, diciamo, distrutta prima della Terra e non solo, ma ha detto che i giganti hanno abitato la Terra. E questo è avvenuto a molti e molti secoli prima di Noè, di Abramo e di tutto il resto. Quindi diciamo che adesso la questione comincia un po' a girare e a diventare... Sì, siamo nel tempo in cui si sta compiendo la profezia di Cristo che dice che la verità da sotto il moggio verrà la luce. Quindi c'è un moto... Vedete anche gli scandali politici, prima non emergevano, adesso invece uno dopo l'altro. Quindi c'è una... sta accadendo qualcosa a livello energetico, vibrazionale che sta trasformando completamente il sistema solare e anche l'essere umano. Magari vi farò nel futuro una lezione, un incontro su queste cose qui che sono molto molto interessanti. Una cosa che volevo aggiungere ad Alex. Allora, nell'evoluzione frequenziale dei sistemi solari, quindi il mutamento energetico che da onde lunghe e lente diventano sempre più corte e veloci, questo crea una manifestazione della materia particolare, quindi a onda lunga e lenta hai manifestazioni vegetali e animali gigantesche. A onda lunga e veloce hai manifestazioni più eleganti, meno tozze, però di dimensioni più piccole. Quindi oggi quella genetica che gira nel mondo comunque non potrebbe mai più manifestarsi con esseri di quella stazza, 5, 6, 7 metri. C'è proprio la frequenza del pianeta che lo impedisce perché questa frequenza, che poi in realtà è, diciamo così, diretta dalla frequenza solare, trasforma proprio la genetica dell'uomo. Adesso siamo in una fase molto accelerata dove il sole, con questa pazzesca energia che sta emanando con le esplosioni solari, sta modificando la genetica nostra. Questa è una cosa che gli scienziati hanno scoperto ma se ne guardano bene del dirlo anche perché non capiscono che sta accadendo. Alla storia di bambini indaco, Cristallo è una storia molto complessa e interessante che ad esempio questo contattista che è stato il mio maestro spirituale, o iniziatico, non lo so come dirlo, ma usiamo un termine, lui me lo disse già decenni fa che sarebbe accaduto questo. Sta accadendo adesso, ma stiamo entrando non nella fantascienza, peggio, però sta accadendo e c'è moltissima informazione che gli extraterrestri hanno dato in merito a questo. Quindi il gigantismo, anche il gigantismo si è ridotto perché la frequenza del pianeta non lo permette più. Sì, prima che vado via mi ricordano le mie efficientissime segretarie, io sono disponibile alle vostre domande, ai contatti, quindi chi volesse restare in contatto e aggiornarsi perché ne accadranno tante, sempre di più. Cioè siamo in una fase in cui anche queste civiltà esterne si avvicineranno sempre di più all'umanità. L'altro giorno c'è stato un altro avvistamento di massa in una città spagnola in pieno giorno. Quindi queste notizie vi serviranno per non andare nel panico. Quindi se lasciate i contatti al tavolino dopo o vi prendete il mio biglietto da visita, mi cercate su Facebook o via mail, io sono disponibile poi a rispondere alle domande e poi ogni tanto pubblico notizie anche secondo la mia disponibilità di tempo e cerco di tenere aggiornate le persone su queste e tante altre informazioni che non avete idea di quante ce ne sono. Ma veramente ci potremmo sedere qui e stare dei mesi per tutta la roba che vi potrei spiegare. Allora abbiamo terminato, ringraziamo per Giorgio Caria anche per questa appassionante disquisizione di questa sera. Allora, l'incontro di incontrata è una rassegna organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Sant'Irpidio a Mare, il prossimo appuntamento sarà un altro appuntamento estremamente interessante, lo abbiamo accennato, parleremo di Marte e passeremo dalla contrata dei Rossi, Aguila Nera su fondo rosso dalla San Giovanni, alla contrata dei Gialli, Scorpione Nero su fondo giallo e andremo praticamente proprio nella sede che sta dietro al Comune, in pieno oggetto storico, proprio dietro al Palazzo Comunale. Non predo, grazie ancora. Grazie veramente per la vostra presenza davvero numerosa. Ringraziamo la contrata San Giovanni per l'ospitalità. Grazie.